Ieri sera, al termine della diretta che abbiamo fatto con Filippo Angeloni, tra l'altro vi metto il link in descrizione per chi volesse vedere la registrazione, discutevamo di banche e Filippo mi faceva notare come nel corso degli ultimi anni i titoli azionari delle banche siano letteralmente crollati. Ora dovete sapere che esiste negli Stati Uniti un indice che misura per l'appunto le performance dei titoli bancari, si chiama Bank Index e ha come ticker BKX. Andiamo a cercare questo indice su TradingView, quindi BKX, eccolo qua Nasdaq Bank Index. Una volta che lo abbiamo selezionato apriamo il grafico multifunzione perché così possiamo fare il confronto con Bitcoin. Prendiamo ad esempio il grafico a un anno, come vedete questo indice ha performato male, cioè nel corso dell'anno con il crollo di marzo è rimasto ampiamente sotto. Ma guardate cosa capita se lo confrontiamo con BTC USD su Coinbase, questo qua. Il confronto è impietoso, ovvero se prendiamo solamente l'ultimo anno, vediamo chiaramente che le performance del prezzo di Bitcoin, quindi la linea rossa, è stata migliore rispetto di quella blu, cioè quella delle banche. Cioè Bitcoin nell'ultimo anno ha sovraperformato i titoli bancari americani. Tra l'altro Bitcoin in questo momento si trova a più 28% rispetto a un anno fa, mentre invece i titoli bancari si trovano a meno 23%. Ma guardate cosa capita se io vado indietro nel tempo, quindi risaliamo al 2019 e già solo dal 2019 siamo passati ad avere un 68% per Bitcoin, un meno 22% per le banche. Risalendo ancora più indietro, ad esempio al 2018 abbiamo Bitcoin a comunque più 19,58%, il bancario meno 37%. Per poter vedere un'inversione di tendenza dobbiamo per forza di cosa andare a prendere solo il momento della bolla. Eccolo, dalla bolla di fine 2017 Bitcoin è ancora ben sotto del 39%, ma comunque le banche sono sotto del 31%. Quindi persino andando a prendere come riferimento il prezzo massimo di Bitcoin con la bolla speculativa di fine 2017, i bancari non è che performino tanto meglio. Basta andare a prendere il prezzo appena dopo, quindi a partire ad esempio da marzo 2018, per avere un più 23% di Bitcoin e comunque un meno 32% dei titoli bancari. Quindi in altri termini, in qualsiasi modo la si voglia vedere, negli ultimi anni i titoli bancari americani hanno perso molto, circa il 30%, mentre invece Bitcoin se si esclude quel periodo di follia a fine 2017, ha performato bene e in positivo e anche molto più dei titoli bancari. E per quanto riguarda l'Italia, ecco per l'Italia c'è questo indice, FTS Italia Banche, prendiamo gli ultimi tre anni. Ecco qual è il grafico delle banche italiane negli ultimi tre anni. Sono passate da circa 12.000 punti a 6.000 punti. Quindi qua la perdita è del 50%. Se poi ci azzardiamo ad andare a prendere gli ultimi cinque anni, vediamo che si è trattato di una catastrofe diciamo, cioè partendo praticamente da 16.000 punti, sono per l'appunto, è arrivato fino a 6.000 punti, che è quasi un terzo, è un po' più di un terzo. Quindi negli ultimi anni i titoli bancari stanno performando male, se non molto male in alcuni casi, mentre invece Bitcoin più o meno performa malino solo se lo andiamo a confrontare con la bolla speculativa di 2017, ma se qualcuno ha comprato Bitcoin prima o dopo la bolla sostanzialmente ci sta guadagnando e magari anche bene. Ricordatevi che appena fatto registrare un record storico massimo di sempre Bitcoin, con la più lunga striscia consecutiva di giorni in cui il prezzo medio è stato superiore ai 10.000 dollari. Nemmeno durante la bolla speculativa CAD, perché durante la bolla speculativa il prezzo medio di Bitcoin è stette sopra 10.000 dollari per 61 giorni, invece ad oggi, negli ultimi 64 giorni è stato sempre così. Quindi siamo in una nuova fase, diciamo, di record sopra la soglia dei 10.000 dollari. Ora io non voglio entrare nel merito dei motivi per cui questi indici azionari relativi alle banche stanno performando così tanto male, però una cosa la vorrei dire. Chi si occupa di banche tradizionali, alla luce di questi dati, non dovrebbe essere particolarmente critico nei confronti di Bitcoin. Lo dico in altre parole, secondo me anche chi lavora nell'ambito bancario dovrebbe essere più critico nei confronti delle banche e delle performance dei loro titoli che non nei confronti di Bitcoin. Perché Bitcoin nel corso del tempo si sta rivelando per ora un buon asset di investimento, mentre invece le banche assolutamente no. Quindi che i lavoratori del settore bancario, solo per difendere il loro lavoro, insomma le loro aziende, vengono a dire magari che Bitcoin non è un bene, non è un asset, non vale la pena investire. Quando poi magari invece le loro stesse aziende producono perdite per coloro che ci investono e perdite di questo tipo che abbiamo appena visto, beh allora sinceramente c'è qualcosa che non va. Per carità eh, Bitcoin rimane un investimento ad alto rischio, ma alla luce dei dati che vi ho fatto vedere, sembra che i titoli bancari da un po' di anni siano un investimento con un rischio persino maggiore di Bitcoin. Lo so che sembra assurdo, però i numeri sono questi, cioè chi investe nelle banche, diciamo da diversi anni, forse addirittura dalla crisi del 2008 in poi, e lo fa veramente con un rischio che sembra essere più elevato di chi lo fa investendo in Bitcoin negli ultimi anni, tranne per quanto riguarda il periodo della bolla. Però sinceramente chi investe su un asset ad alto rischio come Bitcoin nel momento di una bolla, cioè quando il prezzo è salito, quindi non mentre sta iniziando a salire, ma dopo che è salito, lo fa veramente a proprio rischio e pericolo e a mio parere commette un banale errore che inevitabilmente finirà per pagare. Concludo con una considerazione. Secondo me è probabile che il settore bancario o diciamo il settore finanziario globale all'interno del quale le banche hanno un ruolo importante, forse è rimasto un pochino indietro, cioè forse non è evoluto abbastanza per stare al passo con i tempi. Mentre invece c'è qualcuno, come ad esempio Satoshi Nakamoto, che ha deciso di innovare profondamente, inventarsi una nuova forma di moneta decentralizzata, che è differente, molto differente dalle valute tradizionali, quelli delle banche centrali, quelli inflattive. E proprio questa innovazione, proprio questa evoluzione radicale sembra che stia funzionando, mentre invece forse un certo tipo di finanza tradizionale un po' di anni fa ha tirato i remi in barca, ha smesso di innovare e adesso probabilmente ne sta pagando le conseguenze. Questo non vale per tutta la finanza tradizionale, perché anche nella finanza tradizionale ci sono stati delle innovazioni, ma a mio parere nel settore bancario forse ce ne sono state davvero troppo poche e si sono portati dietro dei problemi che non sono mai riusciti a risolvere e che adesso presentano il conto. Se poi doveste avere ancora dei dubbi o delle domande riguardo Bitcoin, beh ricordatevi che potete sempre scrivermi via email, perché io via email rispondo sempre a tutti. Inoltre se volete discutere di questi argomenti vi segnalo il mio nuovo gruppo Facebook Bitcoin Italia, aperto e senza scam, che dopo solo due mesi dalla sua nascita ha già più di 3.300 iscritti. Vi metto ovviamente il link in descrizione. Un saluto, ciao!